Musica Guardiamo gli anziani, guardiamo i vecchi, le vecchie, le vecchiette, guardiamo con amore, guardiamo la propria esperienza loro, che hanno sofferto tanto nella vita, che hanno imparato tanto nella vita, che hanno passato tante e come alla fine hanno questa pace, una pace io direi quasi mistica, cioè la pace dell'incontro con Dio, che possono dire io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti hanno visto i miei occhi.